I portieri Goliador, Brignoli e i suoi fratelli il primo fu Lucidio Sentimenti negli anni 40 su rigore. Rampulla nel 1992 è il primo a segnare sua azione. Il portiere del Benevento Alberto Brignoli è l'eroe di giornata grazie al gol che ha regalato ai campani il primo punto in serie contro il Milan. Chi i suoi predecessori in Italia? Il primo, protagonista del calcio di metà novecento, fu Lucidio Sentimenti, quarto dei cinque fratelli tutti calciatori, famosi. Segnò cinque gol, su rigore, uno di questi gol difendendo la porta della Juve, in cui giocò dal 1942 al 1949, altri tre nella Lazio, uno al Modena. Altre prodezze, i tre gol, su rigore, di Antonio Rigamonti, oggi 68 anni, che nel comodi Pippo Marchiora fu promosso rigorista e poi andò al Milan dove vinse, come vice Albertosi, lo scudetto della stella. C'è un gol di Marco Amelia, che il 2 novembre 2006 segnò di testa la rete del pareggio del Livorno nella trasferta di Coppa UEFA contro il Partizan. E di Massimo Taibi lunghrado aprì la 2001 con la maglia della regina contro l'Udinese. Ma il primo gol di un portiere su azione fu quello realizzato da Michelangelo Rampulla, allora alla Cremonese, il 23 febbraio 1992 in Atalanta Cremonese 1-1. Rampulla siglò la prodezza al 1992. Quel giorno, la mia vita cambiò. Fare gol non era nei miei pensieri, una volta calciai un rigore parato in due tempi e mi dissi, mai più. Ma quel giorno a Bergamo avevo come una visione dell'ultimo minuto, quasi un'allucinazione. Stavamo perdendo, mi ero visto così, segnare il gol del pareggio in rovesciata. Filai verso la porta avversaria, calcio d'angolo, colpo di testa. Gol. Pazzesco. Mi ha cambiato la vita, interviste, riflettori. A fine stagione arrivò anche la chiamata della Juventus, ci restai 10 anni. Merito di quella visione. All'esteto Ceni, Kilavert, Iguita, Bombarveri. Rogerio Ceni, portiere da 129 gol. Rogerio Ceni, brasiliano oggi 44 anni, è il primo in assoluto, giocando 1227 partite da portiere ha segnato 129 gol, la metà su rigore, l'altra metà su punizione, una decina su azione. Riscrivendo l'immagine dei sogni dei ragazzi brasiliani che vogliono, tutti, giocare a calcio e fare gol, tutti, in attacco, a centrocampo, magari anche no in difesa e ma in porta, delegando questo ruolo almeno bravo col pallone fra i piedi. Etichetta del tempo che fu e che Ceni ha spazzato via facendo un'ottima carriera da numero uno, nel San Paolo, con 16 gare in nazionale e il Mondiale 2002 vinto come terzo portiere, e raggiungendo l'inarrivabile traguardo dei 129 gol. Oggi, Ceni è un apprezzato allenatore. Kilavert, tra Capello e Cesare Maldini sotto di lui, Josef Felix Kilavert, 52 anni, paraguaiano. La carriera tutta in Sud America, con cinque stagioni europee spese alla Real Saragozza e allo Strasburgo, ha segnato 54 gol, otto dei quali con la maglia della nazionale, per tre quarti su rigore, poi punizioni e due su azione. Kilavert ha avuto contatti diretti col calcio italiano, era il portiere del Vélez Sarsfield che nel 1994 strappò al Milan di Fabio Capello la Coppa Intercontinentale nella finale di Tokyo. Ed era il numero uno del Paraguay quando Cesare Maldini assunse la carica di CT. 2001-02 Quando arrivò Maldini ha raccontato Kilavert, mi guardò e mi disse, hai qualcosa contro gli allenatori stranieri? No, gli risposi. Lui mi disse, bene, ora stai in porta, niente punizioni, né rigori. Commentatore televisivo, dicono che Kilavert, si è ritirato nel 2004, ambisca al ruolo di CT del Paraguay e che mediti anche una carriera politica. Lo Scorpione e il 41 gol di Guita René Guita, 51 anni, colombiano, fra i portieri goleador, è un caso a parte. Per gli eccessi che consumava il campo e fuori. Mirabili stravaganze da numero uno, come il formidabile, e unico, colpo dello Scorpione, si faceva superare dal pallone dietro la schiena e poi in acrobazia lo colpiva in tuffo con le suole delle scarpe. Eccessi da goleador, con 41 gol. E qualche disavventura fuori dal campo, l'uso di cocaina e un arresto con sette mesi di carcere. Era il portiere della Colombia ai mondiali italiani del 1990 e il 6 settembre 1995 fu protagonista di quella che è considerata la parata più spettacolare di sempre con lo Scorpione messo in mostra a Wembley, perché no? Occorre anche il palcoscenico migliore, amichevole Inghilterra-Colombia, e un tiro cross di Redknap che aspettavo da sempre, la traiettoria ideale perché potessi far vedere di che cosa ero capace.